Per la storia della squadra, per il calore della gente e perché stavo cercando una squadra con l'obiettivo di vincere il campionato e essere protagonista. Penso che la perseveranza nel lavoro e cercare sempre di migliorare il mio lavoro. Ovviamente segnare tanto, però aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo che abbiamo tutti. Il calcio argentino magari è un po' più aggressivo nella parte fisica, invece nell'italiano se le dà un po' più importanza la parte tattica. Sempre da piccolo mi è piaciuto Martín Palermo o Dio Milito come attaccante. Stiamo lavorando tantissimo e stiamo tutti con lo stesso obiettivo e daremo tutto per arrivarci.